L'indice RT-181 mantiene viva le speranze del Friuli Venezia Giulia di essere in zona gialla. Dal lunedì domani il verdetto, ma il monitoraggio Gimbe vede peggiorare 4 indicatori su 6. Arrivano in Friuli i primi vaccini della Moderna, ma sono destinati solo ai militari americani della base di Aviano. Un nuovo carico della Pfizer giunto a Udine. Sono quasi 8.000 le dosi somministrate nella nostra regione. Momenti di preoccupazione a Bertiolo. Nella cassetta delle certificazioni del municipio è stato rinvenuto un pacco sospetto con frasi incomprensibili. Comune subito evacuato. Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri. Si è lasciata autonomia alle singole scuole nella decisione su quanti studenti accogliere in presenza e in sicurezza. Lo chiede il dirigente dello Stellini di Udine. Oggi ritorna in classe dall'asilo. Le medie superiori ancora deserte. Hanno preso il via oggi in Friuli Venezia Giulia e Saldi. Dopo le preoccupazioni della vigilia, alcuni negozianti sorridono dopo i primi acquisti per i consumatori, più che altro un'occasione per fare due passi in città. Buonasera, vi ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si prospetta la zona gialla per il Friuli Venezia Giulia. Il verdetto arriverà domani con i dati del monitoraggio che saranno annunciati appunto nella giornata di domani. A mantenere vive le speranze per la nostra regione e infatti l'indice RT, la velocità di contagio che in Friuli Venezia Giulia si mantiene sotto l'1 e quindi sotto la soglia di criticità che equivale alla zona arancione. Al di sopra dell'1 sono Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Basilicata, Puglia, Calabria. Tuttavia per la Fondazione Gimbe si prevede la terza ondata. Contagi ancora troppo elevati e impatto dei vaccini troppo lontano sono i dati della Fondazione Gimbe. In Friuli Venezia Giulia peggiorano 4 indicatori su 6 e gli effetti del sistema delle regioni a colori non è apprezzabile. Numeri ancora troppo alti e impatto dei vaccini ancora molto lontano. La Fondazione Gimbe intravede la terza ondata della pandemia da Covid. Il monitoraggio effettuato nella settimana dal 29 dicembre al 5 gennaio segnala un incremento dei contagi del 27% dopo 6 settimane consecutive di calo a fronte peraltro di un'imponente riduzione dei tamponi. Salgono anche i decessi mentre la pressione sugli ospedali è stabile con aree mediche e terapie intensive al di sopra della soglia di criticità nella metà delle regioni. Secondo la Fondazione Gimbe inoltre è da rivedere il sistema delle regioni a colori. A 5 settimane dal picco, commenta il presidente Nino Cartabellotta, ha prodotto effetti moderati e in parte sovrastimati. Non è più accettabile, prosegue, la non strategia basata sull'affannoso inseguimento del virus con l'estenuante alternanza di restrizioni e allentamenti che di fatto mantiene i servizi sanitari in costante sovraccarico, danneggia l'economia del paese, produce danni alla salute delle persone e aumenta inesorabilmente il numero dei morti. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe registra una performance in peggioramento per casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 971 contro la media italiana di 943 e incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente, 8,1% su una media nazionale del 5,5. Sono sopra la soglia di saturazione pari al 40%, i posti letto in area medica, 51% e quelli in terapia intensiva, 34% rispetto alla soglia del 30. Sul fronte dei vaccini, per Gimbe siamo ancora lontani dal tradurre questa straordinaria conquista della scienza in un concreto risultato di salute pubblica. Con l'approvazione del vaccino Moderna, spiega a carta bellotta, l'Italia potrà contare su 22,8 milioni di dosi certe entro giugno. Senza il via libera dell'EMA ed altri vaccini o l'anticipo di consegne, conclude il presidente di Gimbe, potremo vaccinare circa il 5% della popolazione entro marzo e meno del 20 entro giugno. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione sono stati rilevati 730 nuove positività su 6.145 tamponi molecolari pari al 10,1% e su 731 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 25, a cui si aggiungono 4 morti pregresse afferenti al periodo tra il 3 e il 27 dicembre 2020. I ricoveri e le terapie intensive sono 64, mentre quelli in altri reparti sono 661. È arrivato questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il carico di vaccini della Pfizer-BioNTech che avrebbe dovuto giungere a destinazione martedì. Il furgone della DHL è scortato dai mezzi dei carabinieri, ha varcato l'ingresso del nosocomio di via Chiusaforte e pochi minuti prima delle 11. Ad attendere il convoglio c'era la Polizia di Stato. Il carico è costituito da 5.850 dosi che portano il totale del farmaco, giunto in fruimezza Giulia in questa seconda tranche, cioè tra martedì e oggi, a 15.210 unità. Dallo scorso 27 dicembre, V-Day a livello nazionale, sono arrivate 27.175 dosi. Il prezioso carico, una volta entrata nell'area della Santa Maria della Misericordia di Udine, è stato scortato fino alla farmacia del nosocomio. Ieri nel corso del vertice, con la Regione, il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, responsabile del piano di vaccinazione, ha garantito ai governatori che presto saranno inviati sui territori, quindi anche in Friuli Venezia Giulia, rinforzi di personale per la somministrazione dell'antidoto. Il vicepresidente della Regione, Riccardi, ha fatto sapere che ad oggi sono quasi 8.000 i vaccini inoculati in Regione. L'adesione tra personale e sanitario ci incoraggia ad andare avanti, ha detto Riccardi. Inoltre, grazie al sopramento delle criticità legate al consenso informato, informativo sugli ospiti e le strutture residenziali, per anziani, ci sarà una forte accelerazione anche delle vaccinazioni all'interno delle case di riposo. Il vaccino è arrivato anche alla base di Aviano. Nel pomeriggio di oggi la struttura militare che ospita il 31esimo Fight Ruin ha ricevuto la sua prima spedizione di vaccini moderna contro il Covid-19. A riguardo le autorità americane e per i loro concittadini hanno stabilito un piano di distribuzione localizzato e a più livelli predisposti per la distribuzione sicura e rapida del vaccino. La salute dei nostri aviatori, delle loro famiglie e delle comunità è una priorità assoluta, fa sapere il comando. 54 strutture controllate in 4 delle quali sono state riscontrate delle irregolarità. È l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Udinen, Friuli Venezia Giulia nell'ambito di verifiche svolte a livello nazionale in strutture sanitarie e socioassistenziali. I controlli disposti dal comando carabinieri per la tutela della salute e in stretta con il ministro sono scattati in concomitanza con il periodo della festività natalizie. A livello nazionale l'ispezione ha riguardato 1.848 strutture con irregolarità riscontrate in 281 pari al 15%. In Friuli Venezia Giulia sono state oggetto di controlli 32 strutture socioassanitarie, 22 strutture socioassistenziali. Sono state riscontrate tre violazioni penali e una violazione amministrativa per un piano anti-Covid non completo. Tra il personale della Croce Rossa di Udinen un dipendente su 10 è stato contagiato dal Covid-19, una categoria rischio che tra poco potrebbe anche dare il proprio supporto per l'esecuzione dei tamponi nelle farmacie. Michele Coiuti, seconda ondata di Covid la Croce Rossa è stata tutt'altro che con le mani in mano. Siete mobilitati su diversi fronti? Siamo mobilitati sia sui trasporti secondari in convenzione con l'azienda Asuf FC di Udine sia in attività anche extra rivolta soprattutto alla prevenzione e screening nelle industrie dall'Alto Friuli a qui nella zona del Medio Friuli rilevazione delle temperature ma non solo facciamo anche screening serologici e tamponi. Quanto ha personale mobilitato? Tutto la Croce Rossa circa 170 dipendenti in questo momento nei vari tipologi contrattuali diciamo che per quanto riguarda la relazione delle temperature abbiamo impegnato circa 40-50 persone. Dove è andata a misurare le temperature? Fuori dalle fabbriche. L'aspetto legato ai vaccini avete iniziato o no? Stiamo discutendo con l'amministrazione pubblica adesso vediamo qual è la loro richiesta specifica. Le farmacie ci stanno chiedendo infermieri per effettuare il tampone il problema è la carenza infermieristica e questo è un problema che come è noto a tutti esiste sia per l'azienda sanitaria che anche per noi. Quanti infermieri avete oggi? Attualmente abbiamo in libro paga 9 più liberi professionisti e sono ancora insufficienti. Sono ancora insufficienti quanti ne servirebbero? Almeno il doppio? È difficile stimarlo perché le attività che vengono richieste vengono richieste anche dall'oggi a domani diciamo che avere la disponibilità di altri 4-5 infermieri non farebbe male. Sui 170 dipendenti avete avuto anche delle persone che sono risultate positive al covid? Sì, più di 10 unità. Momenti di tensione a Bertiolo questa mattina dove nella cassetta delle certificazioni del municipio è stato rinvenuto un pacco sospetto con strane scritte sono intervenuti subito gli artificieri dei carabinieri di Udine e il comune è stato evacuato. Un pacco sospetto è stato rinvenuto questa mattina di fronte al palazzo del comune di Bertiolo ad accorgersi della presenza dello strano involucro è stato un dipendente dell'ente che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Udine per precauzione la sede del comune è stata evacuata. Il pacco è stato lasciato nella cassetta delle certificazioni spiega il sindaco Eleonora Viscardis aveva delle strane scritte sopra quindi abbiamo chiamato i carabinieri per i dovuti controlli anche a tutela del personale e dell'ente. Il pacco è stato aperto dagli artificieri all'interno c'era un altro biglietto con frasi incomprensibili e di difficile interpretazione con oggetti insignificanti nulla comunque di pericoloso. Il tutto è al vaglio dei carabinieri resta al dubbio continua la sindaca a chi vuole essere rivolgersi l'autore del pacco e quali siano le sue motivazioni purtroppo di questi tempi non si può sottovalutare nulla. L'assalto al congresso degli Stati Uniti d'America con morti e sparatorie ha sconvolto il mondo intero. Trump esce sconfitto più che per la violenza generata per il suo comportamento come analizza il professor Guglielmo Cevolin docente di diritto pubblico all'Università di Udine. Le immagini che rimbalzano da Washington fanno il giro del mondo scioccando e indignando milioni di persone. Una frangia dei sostenitori del Presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump ha fatto irruzione al congresso con violenza creando disagi e morti. Come si sia arrivati a un tale atto brutale prova a spiegarlo Guglielmo Cevolin professore di diritto pubblico all'Università di Udine e presidente di Historia. Gli Stati Uniti d'America sono nati anche sulla guerra civile americana tant'è vero che nelle immagini che abbiamo visto anche quelle grottesche ovviamente c'era anche un cowboy con una bandiera Dixie sopra le statue vicino al congresso. Quello che è accaduto comunque è una cosa inaccettabile dal punto di vista della democrazia e la cosa inaccettabile è la violenza. Quello che molto probabilmente è il risultato di questa protesta che è sfuggita di mano probabilmente a Trump è sostanzialmente tutti i populisti sono delle persone sciagurate e anche questo non è giusto. Un'escalation di violenza la quale si è arrivati dopo la vittoria alle presidenziali del democratico Joe Biden. Trump aveva in realtà iniziato a rispondere alla sua insoddisfazione facendo ricorso alla giustizia avendo perso tutte le cause si è però dedicato a delle attività da un punto di vista democratico ancora più gravi la morte ripeto non è accettabile le proteste sono accettabili ma non dovevano essere violente ovviamente ma Trump ha fatto qualcos'altro ha telefonato per cercare di far bruciare delle schede per rientrare in campo e questo ovviamente è inaccettabile ed è per certi versi dal punto di vista di un manuale della democrazia più grave di quello che è successo ieri. Dall'Europa e da ogni singola cancelleria dell'Unione deve arrivare un unico segnale agli USA siamo i primi alleati delle vostre istituzioni democratiche condanniamo l'istigazione e la violenza di Trump che ormai è un problema per la stabilità globale quanto afferma la vicepresidente del Partito Democratico Deborah Serachiani dopo l'assalto al congresso americano per la deputata Demme è auspicabile che in Europa certi leader capiscono quanto sia rischioso dare sponda a una politica sovranista intollerante antidemocratica e per neppure autolesionista i contorsionismi di Salvini Meloni su Trump poi conclude sono inascoltabili i genitori di Giulio Regeni assieme al loro avvocato Alessandra Ballerini hanno depositato alla procura di Roma una denuncia contro il governo italiano che avrebbe violato una legge la 185 del 1990 che vieta la vendita di armi a paesi ritenuti responsabili dei reati contro i diritti umani Paola Defendi e Claudio Regeni avevano annunciato alcuni giorni fa partecipando al programma Propaganda Live di Lassette l'intenzione di denunciare l'esecutivo puntando il dito contro la vendita di navi militari all'Egitto da parte del governo italiano si trattrebbe di due fregate una delle quali già consegnate prima di Natale una notizia che ci arriva dal Crodi Aviano in seguito alla positività segnalata da parte di un paziente qualche giorno dopo la dimissione l'istituto in via precauzionale ha attivato uno screening tampone nasofaringeo in tutti i pazienti ricoverati anche asintomatici sono emersi sette pazienti positivi di cui uno soltanto con sintomi sono state attivate sono tuttora in corso tutte le procedure previste in questi casi per garantire la sicurezza di tutti i pazienti ricoverati e degli operatori trasferimenti sanificazioni tracing del contatto analisi epidemiologica interna si tratta del primo caso di pazienti positivi al Crodi Aviano allarme nel primo pomeriggio di oggi per l'asilo nido di Tarvisio lo stato d'alerta è scattato intorno alle 14.30 quando il personale che opera all'interno della struttura ha notato una falda di tetto di un edificio adiacente verosimilmente inclinata verso il dormitorio dell'asilo a causa del peso della neve l'asilo dopo una prima verifica non è stato oggetto di evocazione misura inizialmente considerata vista le possibilità le possibili problematiche di stabilità sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di cave del predile squadre del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico oggi si sono ripopolate le scuole dell'infanzia le elementari e le medie nel friuli Venezia Giulia ancora a deserta le superiori dopo le lezioni si fanno dove le lezioni si fanno a distanza si è lasciata autonomia alle singole scuole nella decisione su quanti studenti accogliere in presenza in sicurezza lo chiede il dirigente dello Stellini di Udine si è lasciata autonomia alle singole scuole nella decisione su quanti alunni accogliere in sicurezza in presenza la richiesta arriva da Luca Gervasutti dirigente del liceo classico Stellini di Udine e vicepresidente dell'associazione nazionale presidi del friuli Venezia Giulia è intervenuto ieri sera la trasmissione elettroshock alla vigilia della ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia oggi sono tornati in aula bambini e ragazzini dell'asilo delle elementari e delle medie mentre per gli studenti delle superiori è ripresa la didattica a distanza e così sarà fino a febbraio se si ripopolano scuole dell'infanzia e del primo ciclo resta ancora surreale l'atmosfera in quella che di solito è l'ora di punta al centro studi di Udine e al terminal studenti considerato che facendo un unico ingresso quello delle ore 8 e un'unica uscita quello delle ore 13 o delle ore 14 io sarei in grado senza alcun problema di ospitare in sicurezza 270 studenti quindi il 38% dei nostri ragazzi ora il 38% dei nostri ragazzi domani riprenderà le lezioni invece a distanza e questo secondo me è un errore voglio dire che il governo centrale o il governo regionale dovrebbero fissare un tetto massimo e un tetto minimo una soglia minima sotto la quale non si può andare per garantire la presenza a scuola degli studenti è sbagliato chiudere totalmente le scuole ma è anche sbagliato fissare un'unica quota che tutti quanti devono raggiungere lasciamo ripeto come dicevo prima alle singole scuole la possibilità di agire in autonomia perché sono solo le scuole a conoscere quella che è la reale situazione di ogni singola istituzione scolastica anche in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia sono partiti i saldi invernali gli sconti variano generalmente dal 20 al 50% andiamo a vedere com'è andata Udine i saldi in questo caso invernali sono sempre stati un'opportunità per i commercianti di recuperare gli incassi perduti e per i consumatori di fare acquisti di prodotti a prezzo calmierato oggi sono ripartiti come ogni anno in questo periodo ma in un clima di incertezza a causa dei continui cambiamenti legati al numero di contagi da coronavirus non sanno siamo gialli siamo arancione possiamo venire possiamo fare noi come prassi come regola i saldi partono sempre il 7 non siamo ancora matematicamente pronti però gli scontri li facciamo comunque vedo che avete un certo movimento si 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 comportano bene sono tutti mantengono le distanze quindi da quel lato riusciamo a gestire bene come vede signora siamo vuoti allora secondo me la gente non ha ancora capito quando può uscire quando non può uscire quando giallo quando arancione quando siamo rossi però spero nel brutto tempo che le tolgano via queste scarpe che hanno ancora della primavera addosso perché io li vedo passare hanno ancora le scarpe estive un po' di gente si vede in giro perché zona gialla chiaramente la gente profissa di uscire la molla dei saldi non so se faccia ancora presa visto che sono già parecchi mesi che i negozi per la crisi contingente sono costretti già a fare dei prezzi molto favorevoli abbiamo allestito un reparto nuovo dietro che è tutto al 50% e vedo che sta riscuotendo notevoli interesse non è un settore che gode di molto favore adesso perché c'è forse troppa offerta in zona e la gente preferisce dedicarsi all'acquisto di altre cose noi rileviamo un approccio sicuramente molto lento e timido ai saldi probabilmente dovuto alla scarsa comunicazione e promozione a livello nazionale purtroppo mi sento di dire che ci troviamo con uno stato assente che non sostiene le imprese i consumatori friulani sono disorientati soprattutto dai continui cambiamenti di regolamentazioni legate alla diffusione del virus ascoltiamoli si aggira per le vie del centro cittadino con lo scopo di fare una passeggiata scaccia pensieri ma anche esplorativa e alla ricerca ad un acquisto rimandato da tempo è l'esercito dei consumatori forse un po' sparuto rispetto alle aspettative e in molti casi anche disorientato dalle proposte in saldo e dalla libertà di movimento alla quale non era più abituato oggi zona gialla oggi zona rossa zona arancio ti mette sempre questa incertezza continua la gente va fuori all'improvviso poi rimane chiusa e d'altronde oggi siamo liberi finalmente usciamo è un'occasione per fare tutte e due siamo venuti a fare un po' di shopping visto che oggi ci si può muovere poi ci richiuderanno e vabbè vabbè così insomma finché si può ci si muove siamo venuti a fare una passeggiata visto che oggi si poteva quindi guardiamo le vetrine niente di più noi stiamo veniamo anche a cambiare qualcosa che ci è stato regalato anche perché oggi siamo liberi poi dobbiamo sicuramente star dentro ho visto un po' di movimento devo dire il vero ho approfittato anch'io a mio marito sacchetto dell'acquisto appena fatto però devi andare in una città devi uscire insomma dai comuni piccoli è un'occasione per muoversi se no qua siamo sempre chiusi in casa speriamo continui almeno così per dire il vero sono qua per prendere un giuoto per un mio amico però dato che ci sono i saldi non si sa mai ma sembra quasi una situazione normale se non ci fossero le mascherine sembra di vedere un po' di movimento un po' di vita finalmente studio a Milano quindi vedo un sacco di differenza qua c'è sicuramente più vita già puntato gli occhi su qualcosa? sì come sempre sì sì noi amiamo soprattutto capi di abbigliamento che siano scarpe che siano cappottini che siano guannelline vediamo se con i saldi riusciamo a regalarci qualche gioia in questo periodo a flusso anche nella strada degli acquisti nel primo giorno di saldi ma non nei livelli degli anni scorsi il giorno dell'avvio dei saldi invernali è arrivato anche nelle strade degli acquisti le vendite di fine stagione invernale si svolgeranno fino al 31 marzo siamo contenti soddisfatti per ora i clienti stanno arrivando e quello che vogliamo dare come messaggio è che i nostri negozi sono sicuri sono sanificati all'ingresso qui a Tavagnacco abbiamo anche un termoscanner quindi misuriamo la temperatura ovviamente il gel all'ingresso e fuori da tutti i camerini di prova quindi sicuramente li invitiamo a venire in sicurezza un po' di movimento sinceramente non sappiamo come si svolgeranno questi due giorni in cui siamo in zona gialla naturalmente non è paragonabile all'anno precedente perché erano momenti completamente diversi e quindi quest'anno sappiamo che saranno diciamo un po' sottotono primo giorno di saldi le signore hanno già fatto i primi acquisti attendevate i saldi? sì sì per comprare cosa? un giacone aspettavo questo giorno per fare un acquisto avevo bisogno di un bel golfino e l'ho acquistato qui da Arteni mi ha fatto lo sconto sono soddisfatta sorella Ramonda c'è chi appunto ha fatto acquisti anche qui approfittano dei saldi voi che cosa avete comprato? abbiamo comprato i giubbotti che era molto conveniente prenderli con gli sconti poi i jeans roba per la montagna insomma tutte cose che ora erano parecchio parecchio convenienti attendevate i saldi per fare acquisti quest'anno? sì più di sempre? sì più di sempre quest'anno più che mai si aspettavano i saldi io non vestito quanto ha risparmiato? tantissimo ancora il 30% non so bene i prezzi perciò so che era il 30% quindi soddisfatta del suo acquisto? sì sì abbastanza attendeva i saldi per questo? sì solo che purtroppo con la zona arancione e rossa non si capisce bene come ci si può muovere perciò abbiamo approfittato oggi che siamo sicuri di poter andare solo che c'è un po' di confusione non è il massimo ecco c'è un po' troppa gente in giro a Pordenone in molti negozi si è dovuta fare la fila per entrare una boccata d'ossigeno per i commercianti la zona gialla la ripresa delle scuole l'inizio dei saldi il centro di Pordenone oggi ha accolto moltissime persone vogliose di fare due passi o un acquisto dopo i giorni di chiusura finalmente in uscita respirare un po' di aria cosa si compra? un po' di magliette jeans quello di cui abbiamo bisogno insomma in tanti negozi per entrare si è dovuta fare la fila non immaginavo se ne fosse così tanta tant'è che al giro di tacchi me ne vado perché onestamente non è nel caso ho fatto altre compere si ho fatto altre compere due candeline e via a casa adesso una boccata d'ossigeno per i commercianti devo dire la verità da stamattina c'è stato un flusso continuo quindi siamo contenti si si è avuto una bella una bella resa proprio ci voleva continuo di gente che ha voglia di vestirsi si ha piacere di finalmente uscire ovviamente e anche di vestirsi diversamente forse dalla tutta di casa abbiamo visto anche le file fuori dai negozi si si e continuano ad esserci quindi bene siamo contenti si qualcuno però attende ancora i veri affari ci aspettavamo leggermente meglio sinceramente c'è stato movimento eccetera però non gran che ecco rispetto alle previsioni fino a domani ancora corsa allo shopping poi si ritorna in zona arancione in attesa di novità si si oggi per due giorni poi poi chi lo sa non non mi aspetto altra libertà per le prossime settimane sabato appunto saremo magari un pochino più chiusi siamo scappate oggi la regione sulla base della proposta dell'assessore al turismo Sergio Emilio Bini lancerà in questo 2021 un bonus per i cittadini del Friuli Venezia Giulia che passeranno le loro vacanze sul territorio una formula innovativa per supportare gli albergatori e i cittadini in vista dell'estate quando e l'auspicio di tutti potrebbe ripartire il turismo che proprio regione stava facendo registrare numeri record la giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo Sergio Emilio Bini ha approvato un voucher vacanze nel DDL sviluppo in presa che nella prima settimana di febbraio arriverà nell'aula del consiglio regionale lo strumento è rivolto ai core regionali che resteranno in Friuli Venezia Giulia pernottando almeno tre notti in un albergo al fine di sostenere il turismo di prossimità cioè per incentivare i cittadini i cittadini del Friuli Venezia Giulia a fare le vacanze nella nostra meravigliosa regione Turesta F e VG che avrà comunque una copertura importante 80 da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro pernucleo e familiare e con questo voucher andremo sia a come dire aiutare le famiglie del Friuli Venezia Giulia le famiglie del Friuli Venezia Giulia che vorranno rimanere qua ma nel contempo daremo una mano anche a un settore che è stato pesantemente colpito tuttora lo è dalla dalla crisi economica a causa della pandemia e mi riferisco al settore alberiduro siamo in chiusura ma vi ricordo alle 19.45 l'appuntamento con screenshot condotto da Davide Vicedomini si parlerà dell'assalto al Campidoglio negli Stati Uniti con un collegamento con il Fogular Sfurlands e poi scopriremo tutti i dati sul Covid nella nostra regione con Clementina Sasso del team Pillole di ottimismo grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti